Musica Verso in padella un cucchiaio d'olio Aggiungo 70 g di prosciutto cotto tagliato a striscioline E uno spicchio di cipolla E lascio insaporire e soffriggere tutto Potete utilizzare anche il prosciutto cotto normale, quello crudo Oppure della pancetta o della salsiccia Se preferite invece una versione vegetariana non mettete niente Lasciate soltanto soffriggere la cipolla e poi aggiungerete dopo funghi e pidelli Aggiungo ora 150 g di funghi e champignon tagliati a pezzi fettili E 100 g di piselli e mispressi o surgelati come preferite Aggiungo un pizzico di sale Pochissima acqua E faccio cuocere a fiamma bassa fin quando funghi e piselli non saranno ben cotti Sono passati 20 minuti I funghi e piselli sono cotti Rimuovo lo spicchio di cipolla E posso spegnere e togliere questo sughetto Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta Ora che bolle aggiungo il sale E 200 g di fettuccine Le farò cuocere il tempo indicato e poi le scolerò al dente In questa ciotola ho messo 50 g di parmigiano Aggiungo dell'acqua di cottura della pasta Poca per volta mescolando Un pizzico di pepe E dovrò ottenere una crema fluida Quindi aggiungo acqua poca per volta Ecco, va bene così Metto in padello le fettuccine Aggiungo poca acqua di cottura della pasta E mescolo bene Ora spegniamo E aggiungo la crema di parmigiano Le possiamo già impiattare Aggiungiamo un po' di parzemola E le nostre fettuccine cremose con funghi e pisali Sono pronte In questa ciotola abbiamo 300 g di ricotta Potete utilizzare sia quella di pecora Che quella di mucca Alla ricotta aggiungiamo un uovo Ti aiuto a romperlo? Condiamo con un pizzico di sale Uno di pepe Uno di pepe Una grattata di noce moscata Bravissima Martina Senti che profumo la noce moscata Senti che profumo? Com'è? Poi aggiungiamo Aggiungiamo anche un po' di buccia di limone Poca 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 per profumare Appena una grattatina Aggiungo un po' di prezzemolo Così le abbiamo condite per bene E per terminare 20 g di parmigiano Potete anche scegliere il pecorino Vai Marti Metti il formaggio E ora iniziamo a mescolare tutto Vai, mescola tutto per bene Abbiamo mescolato bene l'elicotta Ora dobbiamo aggiungere soltanto il pan grattato Ne aggiungiamo poco per volta Fino a raggiungere la giusta consistenza Ora Martina mi aggiunge Un po' di pan grattato per volta Metti qua Poi alla fine vi dirò quanto ne ho usato Iniziamo con questo Ancora un po' Martina Aggiungi altro pan grattato Brava Un altro cucchiaio Il totale ho aggiunto 100 g di pan grattato Se vi piace potete anche mettere uno spicchio d'aglio Noi non lo mettiamo Ora che l'impasto ha raggiunto questa consistenza Si può perfettamente lavorare con le mani Formiamo le nostre polpettine Sei pronta? Sì Allora Prendiamo un po' di questo impasto Lo facciamo diventare una piccola polpetta Poi arrotoliamo Arrotoliamo Poi la passiamo nel pan grattato Così E la appoggiamo sul piatto Vai Martina ora Prendi più o meno un cucchiaio L'impasto Apri la mano Vai Fai la polpetta Dai Fai la polpetta Vuoi aiuto? Sì Che sapore E la polpia Allora io ti aiuto a fare la polpettina rotonda Fai così con le mani Così Fai così Brava Bene bene Nel pan grattato Su tutti i lati Vai Molto carina la tua polpettina E ora Facciamo tante altre polpette Hai preparato tutte le polpette? Sì Quante ne sono venute? Contale Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Die 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 Bravissima Ora le cuociamo? Sì Aspetta Allora Queste polpettine le cucineremo Dentro un sughetto semplice Semplice Quindi mettiamo La passata in una padella Ne mettiamo circa 400 grammi Quindi non tutta Così Va bene 400 grammi di passata di pomodoro Un filo d'olio Un pizzico di sale E poi gli odori Metti tu Un po' di sedano Metti Questo è il basilico Un po' di basilico Un po' di sedano Un pezzetto di cipolla Un pezzetto di carota Aggiungiamo poca acqua Mescola Faremo cuocere tutto a crudo Le polpettine Insieme al sugo Bene E adesso Possiamo mettere le polpette Dentro il sugo Così Vai Aiutami dai Le ricopro un pochino con il sugo E ora che Martina ha ricoperto per bene Le polpette con il sugo Possiamo andarle a cuocere Copro con un coperchio E faccio cuocere per 15-20 minuti Sono passati 20 minuti Le polpette sono cotte Il sugo ben insaporito Posso togliere E ora le impiattiamo Un po' di basilico E le nostre polpette di ricotta Sono pronte Rompono due uova In una ciotola Aggiungo 120 grammi di zucchero La butta grattata di un limone Aggiungo anche un pizzico di sale E mescolo tutto A questo impasto Aggiungo ora i liquidi 70 ml Di acqua o di latte Scegliete voi Io sto usando dell'acqua E 50 grammi di burro Che ho fatto sciogliere in un bricco Aggiungo ora le farine 120 grammi di farina doppio zero E 80 grammi di farina di cocco E mescolo Aggiungo ora Due cucchiaini di lievito per dolci E 200 grammi di pesca a pezzetti Ho preso poi uno stampo per 12 muffin E l'ho rivestito con 12 pirottini di carta Ora aiutandomi con un cucchiaio e un cucchiaino Metto circa un cucchiaio di impasto In ogni pirottino di carta Rimbocco poi Ogni pirottino Con l'impasto avanzato Con questa dose otterrete esattamente 12 muffin E metto poi delle fettine sottili di pesca Su ogni muffin Mezza fettina su ognuno Questi sono veramente facili e velocissimi da preparare E ora non ci resta che infornare A 180 gradi per 20 minuti Ed eccoli pronti Ora li lasciamo raffreddare Appena un po' di zucchero a velo E pronti I nostri dolcetti alle pesca e cocco sono pronti Per oggi è tutto Io vi saluto e noi ci vediamo presto E ora ne assaggiamo uno E ora